Quali azioni e risorse intende mettere in campo il comune di Barletta per arginare i fenomeni criminali più diffusi sul territorio? L'ABAT risulta essere la prima provincia in Italia per furti da auto e reati predatori in genere, ma a destare preoccupazione è anche la recrudescenza di casi di delinquenza minorile. Ne hanno discusso i consiglieri comunali protagonisti del confronto ospitato dalla trasmissione speciale Telesviva che andrà in onda stasera alle 23.15. Non mancano le proposte della maggioranza al vaglio dell'amministrazione locale, su tutte il potenziamento degli organici della polizia locale e l'istituzione di un vigile di quartiere. Il vigile di quartiere è fondamentale e questa è una cosa su cui noi ci siamo battuti da sempre come movimento politico e in questo anche il sindaco Cagnito nel programma elettorale prevedeva il vigile di quartiere. Noi già stiamo lavorando affinché, in sinergia con il dirigente, ripeto, si possano subito bandire dei concorsi per il potenziamento dell'organico di polizia locale. La battaglia per limitare il fenomeno dei furti d'auto si complica dopo la riforma cartabia dal momento che il reato diventa perseguibile solo a querela di parte. Il governo dal punto di vista del suo potere legislativo, questo a mio sommesso parere, certamente non ha aiutato la riforma che ultimamente c'è stata sulla procedibilità, perché mentre la procedibilità di ufficio consentiva che il processo di tutto l'iter giudiziario si svolgesse indipendentemente da quella che fosse o poteva esserci da parte della persona offesa, dalla persona danneggiata, dalla persona che ha subito il furto, ovviamente con questo cambiamento di rotta, portando dalla procedibilità d'ufficio a querela di parte, ovviamente non amplia ecco la possibilità di una maggiore garanzia, ma anzi le assicuro che lo limita. Sono in aumento le segnalazioni di episodi di illegalità che coinvolgono i ragazzi anche giovanissimi della città. Aggressioni di gruppo, atti vandalici, schiamazzi notturni, uso improprio e pericoloso delle biciclette elettriche fanno ormai parte delle cronache quotidiane. Il comune, dicono dalle opposizioni, ha anche il compito di promuovere e favorire attività di sensibilizzazione sui temi della legalità e della sicurezza rivolte alle giovani generazioni. L'emergenza educativa minorile è un tema di cui si può e si deve occupare il comune, attraverso i servizi sociali, attraverso le scuole, attraverso una rete di agenzie presenti sul territorio, le parrocchie, le associazioni che svolgono un ruolo fondamentale nell'attività. Quindi anche questo tema è uno dei temi che deve interessare e può interessare il comune.